Senza le radici non si può vivere un popolo senza radici o che lascia perdere le radici è un popolo ammalato. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel corso dell'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta. Le proprie origini indicano l'appartenenza a un popolo e sono fonte di gioia, ma non di rado ci sono resistenze. Si tratta di quanti preferiscono l'esilio e quando non c'è l'esilio fisico, l'esilio psicologico, l'autoesilio dalla comunità, dalla società. Dobbiamo pensare a questa malattia dell'autoesilio psicologico, ha insistito il pontefice che fa tanto male. Una persona senza radici che ha dimenticato le proprie radici è ammalata. Ritrovare, riscoprire le proprie radici e prendere la forza per andare avanti. La forza per dare frutto. E come dice il poeta, la forza per fiorire. Perché dice quello che l'albero ha di fiorito viene di quello che ha di sotterratto. proprio quel rapporto tra la radice e il bene che noi possiamo fare.